Il tutorial più dolce che c'è con le delizie di Daniela e oggi Daniela farà vedere qualche cosa che ha a che fare con una festività. Penso che sia la festività più cara a noi che siamo un po' mammone perché stiamo parlando della festa della mamma. Esatto, oggi ci occuperemo della festa della mamma e quindi ho cercato di pensare quale potesse essere la torta o il dolce più indicato per questa festa. E francamente da mamma ho pensato che il modo migliore per cominciare questa giornata di festa sia quello di cominciare con un dolce risveglio. Quindi oggi prepareremo la pasta brioche per preparare una colazione speciale, particolare per tutte le mamme. Daniela poi insomma viaggia sempre molto basso perché lei ha preparato una pasta brioche particolarissima. Poi vi faccio vedere come al solito è sempre una scultura quella che esce dalle sue mani. Intanto volevo farvi diciamo catturare la vostra attenzione su queste foglioline che sono anche queste qua fatte dalle sue dolci mani e sono in cioccolato. Esatto, sono delle foglie di rosa in cioccolato, dopo magari ne facciamo vedere una giusto per far vedere come si realizzano e serviranno per decorare le brioche che faremo oggi perché naturalmente non faremo cornetti o brioche classiche ma qualcosa di molto particolare. Partiamo con gli ingredienti per realizzare questo dolce. Esatto, allora faremo una pasta brioche molto semplice così le nostre amiche a casa avranno modo di realizzarla semplicemente. Allora si parte da una base di farina zero, farina manitoba, che viene poi lavorata insieme a tre cucchiai di zucchero, due uova, non abbiamo detto scusami 500 grammi di farina, non avevo detto la quantità, poi un bel bicchiere di latte nel quale sciogliere un quadratino di lievito di birra. Io per la verità uso il lievito madre mio, personale, che faccio e tengo in frigorifero. Poi un bel pezzo di burro all'incirca 80-100 grammi. Con questo realizziamo un bel impasto liscio e morbido che metteremo poi a lievitare in una ciotola coperta con una pellicola, vedete come questa. Se avete una planetaria va benissimo impassarlo in una planetaria perché è un impasto che richiede un po' di forza nella lavorazione. Altrimenti olio di gomito e si impasta come facevano le nostre nonne. E fa pure bene, facciamo un po' di muscoli. Esatto. Allora, prima abbiamo parlato delle foglie di cioccolato che avevo realizzato. Ti volevo far vedere, allora, partendo dalla foglia, diciamo, della rosa, in questo caso io le ho fatte delle rose, perché il motivo di oggi della nostra pasta brioche sarà il motivo floreale. Quindi, chiaramente delle rose di giardino perché non devono essere trattate le foglie, quindi con prodotti chimici. Poi sciogliamo del cioccolato fondente o del cioccolato bianco o del cioccolato al latte, come preferiamo, e pennelliamo questo cioccolato fuso. Io in questo caso ho messo anche una goccina di essenza di menta. Infatti vedi che si sente un po'. Un after eight. Esatto. Dopodiché viene pennellata e viene messa a raffreddare o in frigorifero a temperatura ambiente. Poi, con molta delicatezza, bisogna staccare la nostra foglia. Vedi piano piano? Fino ad ottenere la foglia della rosa con tutte le sue venature. Ecco, non so se riusciamo ad inquadrare. Effettivamente realistica, proprio perché è realizzata su una base reale, ma buonissima da mangiare. Molto di più della foglia della rosa, perché questa è una delizia davvero. Esatto. Vedi, ne abbiamo realizzate diverse, ora le mettiamo da parte e le utilizzeremo dopo per le nostre decorazioni. Passiamo invece adesso a realizzare la nostra brioche. Allora, la prima che faremo è un bellissimo fiore che io ho fatto diverse volte e che piace molto alle mie amiche. Allora, un po' di farina sul nostro piano e qui un po' di olio di gomito ci vorrà. Allora, prendiamo la nostra pasta che, vedi, è sofficissima, deve essere molto morbida. Ora, da questa pasta noi andremo a togliere una decina di palline. Io come misura si dovrebbero pesare, per la verità. Come misura utilizzo il palmo della mano. Vedi? Ecco qui. Ora, realizzeremo le nostre palline. Il profumo voi non lo potete sentire, ma c'è un profumo, una fragranza proprio di lievito, farina, una cosa buonissima. Esatto. Questa è una lavorazione, insomma, un po' particolare. Mi dovete seguire, perché effettivamente saranno diversi i passaggi. Sono ripetitivi perché alla fine sono semplici. Ecco qui. Allora, ci siamo quasi. Va bene anche per i neofiti, coloro i quali non hanno mai fatto un dolce, oppure è proprio uno stato avanzato? No, no, no. La pasta brioche è una pasta semplicissima. Bisogna seguire, diciamo, degli accorgimenti nella sua realizzazione. Però sicuramente è una pasta che dà molte soddisfazioni. Io poi adoro gli impasti lievitati. Allora, abbiamo realizzato 10 palline più una che sarà quella centrale, quindi 11. Allora, togliamole adesso, le mettiamo di nuovo nel nostro recipiente e cominciamo a lavorarci la prima pallina, perché dovremo stendere delle sfoglie. Ora vi faccio vedere. cercheremo di dare alla nostra pasta, oggi fa caldo e la pasta tende un po' ad appiccicarsi, una forma circolare. Quindi con il nostro mattarello andremo a fare tante sfoglie tonde. È una specie di pizza, per intenderci. Esatto, esatto. Ora la stendiamo. Dobbiamo un po' allargarcela anche con le mani, perché dovrà essere molto sottile. Intanto si vede che la pasta è perfetta, perché guardate com'elastica, com'è duttile sotto le mani di Daniela. Sì, infatti, la maglia glutimica della pasta deve essere, cioè deve realizzarsi così, deve essere molto elastica. Poi il lievito madre ci permette di realizzare veramente un'ottima pasta, anche dal punto di vista sia della lavorazione che della digeribilità. Perché sai che il lievito madre comunque fermenta in maniera naturale rispetto al lievito di birra, quello normale. E quindi anche chi ha problemi, per esempio, digestivi, un po' di intolleranza, eccetera, può trovare questo tipo di impasto fatto con il lievito madre molto più leggero, molto più digeribile. Sì, io ho cominciato proprio per una piccola intolleranza ai lieviti ad utilizzare il lievito madre. Ti devo dire la verità che alla fine poi ho riscontrato che è anche migliore proprio anche nella qualità del prodotto. Allora, più o meno abbiamo raggiunto la sua forma. La pettola. e cominciamo a metterla nel nostro, nella nostra teglia, nel nostro stampo. Ce l'allarghiamo ancora un pochino. Ripeto, noi qui facciamo sempre le cose un po' velocemente, poi a casa riuscite a fare meglio. Adesso ci vuole la crema alla nocciola. Già comincia a diventare interessante questa ricetta, perché cominciamo a sentire, insomma, dei sapori, delle cose molto intense. Esatto, esatto. Allora, passiamo con la nostra crema alla nocciola e cominciamo a realizzare come un fiore centrale. Ecco. I nostri petali. Li disegniamo proprio, insomma. Sì. Ecco qui. E così procederemo per cinque strati. Allora, dopo questo strato facciamo un'altra pettola, poi la mettiamo sopra, poi ancora un fiore. Giusto? Così? Si procederà a strati, quindi adesso andiamo a stenderne un altro, sempre con un po' di farina. Ebbè, è un dolce che comunque ho regalato alla mamma, è davvero una cosa, diciamo, un bel pensiero, anche perché ci vuole un certo impegno. Non fosse altro per stendere tutte queste piccole pizze di brioche. Ecco, vedi, questa mi sta avvenendo meglio, perché a volte sono un po' dispettose e non si lasciano stendere bene. Questa riesco a farla più circolare. Ecco, adesso con le mani sempre gli diamo un po' una tesatina e la andiamo ad adagiare sull'altra. Ecco, mi sono anche sporcata, di cioccolato, vabbè, è un modo piacevole. Dopo aver fatto questo, ancora facciamo un fiore, sempre con la stessa crema. Io alla fine riuscirò a farti fare qualche ricetta, anche a te. E io diciamo che non invidio coloro i quali poi dovranno assaggiarla. Io sarò la prima, guarda, sicuro. Mi fido, mi fido. Questo è amore. Intanto lei sta continuando a fare il fiore, come vedete, prende lentamente vita questo dolcetto. Esatto, esatto. È una lavorazione un pochino lunga, dovete avere un po' di pazienza e vedere tutti i passaggi. Io li sto cercando di fare più velocemente possibile. Allora, andiamo di secondo strato. Anzi, terzo. Ecco qua. Spendiamo la nostra sfoglia. Questa poi naturalmente lieviterà un altro pochino, quindi si andrà sia a gonfiare prima di andare in forno, sia durante la cottura in forno. Noi non abbiamo detto che l'impasto va messo a lievitare fino al raddoppio, una cosa importante. Quindi dobbiamo raggiungere il doppio della consistenza della pasta che avevamo impastato precedentemente. Per quanto riguarda la lievitazione, c'è qualche consiglio che vuoi dare alle nostre amiche? Metterlo in un posto caldo, non lo so, oppure riparato? Allora, sicuramente deve essere un luogo asciutto. Questa è la prima, diciamo, la cosa fondamentale. Poi che sia un ambiente non troppo freddo anche, perché comunque giova alla lievitazione, poi dipende dal lievito anche che abbiamo utilizzato. Considera che il lievito madre richiede quasi quattro ore. A differenza del lievito di birra, del cubetto classico che si compra al supermercato, quello anche in due ore riesce a lievitare. Quindi già questo ti fa capire se c'è una differenza. Il motivo è proprio quello. C'è una lievitazione lenta, permette poi di avere anche dopo una, diciamo, la completa lievitazione e fermentazione del prodotto. Mentre con il lievito di birra a volte c'è l'increscioso problema, soprattutto perché è intollerante, che la lievitazione poi avviene all'interno dell'organismo dopo averla ingerita, diciamo. Quindi continua a lievitare come se fosse. E questo a volte causa dei problemi. Allora, ecco qui. Una specie di stella marina stiamo facendo. Ecco, perfetto. Mi ripulisco le mani. Andiamo col quarto strato, giusto? Esatto, esatto. Cerchiamo di farlo velocemente. Anche perché ci aspettano altre delizie da preparare. Diciamo che in pasticceria si è agevolati perché esiste la sfogliatrice, che è una macchina che ti permette di tirare la pasta innanzitutto in maniera regolare, quindi dello spessore giusto e regolare in tutte le sue sfoglie. E poi in una velocità supersonica rispetto al mattarello. Però ti dirò, io il mattarello lo adoro perché comunque mi porta un po' anche indietro nell'infanzia, dove mia nonna spesso lo utilizzava, mia madre, insomma. Quindi mi piace l'idea. Perché c'è una certa manualità. Poi, insomma, se abbiamo un sacco di figliole, figlioli, un marito che si presta, possiamo metterli a lavorare. Insomma, un mattarello per uno questa sfoglia viene subito stesa. Un mattarello per uno fa male a nessuno. Sì, sì, certo. Se riusciamo, purtroppo, vedi, ecco, sono passaggi obbligati che devono essere fatti. Ok, ultimo strato. Ancora della crema, dal cioccolato. Sì. Poi noi la stiamo mettendo, Daniela, sta mettendo al cioccolato, alle nocciole. Magari si può mettere anche fondente se si preferisce, giusto? Certo, si può mettere anche della crema pasticcera o della marmellata. Non è necessario che bisogna utilizzare per forza, diciamo, questa crema alla nocciola. Insomma, a secondo dei propri gusti. sicuramente questa è una crema che piace molto. Infatti io, quando ho sperimentato questa ricetta, che ti dirò, era una ricetta per un pane salato. Io poi l'ho rigirato a brioche in questa versione cioccolatosa. Devo dire che è piaciuta molto, insomma. Ebbè, ci credo. È molto colosa questa qua. Io veramente sono in attesa di capire come poi da questa specie di crepe gigantesca nasca la rosa. E quindi sono trepidante perché aspetto questo momento in cui il fiore sorgerà dalle tue mani. Esatto. Sarà più un fiore che una rosa, in questo caso. Le altre che faremo saranno rose. Questo è più un fiore, un girasole, insomma, un fiore a petali, insomma, diverso dalla rosa. Adesso ti faccio vedere. Questo è l'ultimo strato. Lo allarghiamo un po'. E andiamo a sigillarla. Esatto. Diamogli sempre un po' la forma. Ripeto, io sto facendo un po' velocemente. Comunque adesso, con un tagliapizza, andiamo a incidere. Cominciando dal centro, tagliamo i nostri petali. Cerchiamo di andare proprio dove abbiamo messo la nostra crema alla nocciola. Non arriviamo... Come una crepe, insomma. Esatto. Non arriviamo fino in fondo. Perché, adesso vi faccio vedere, questi bordi, questi petali, andranno rigirati. Daniela, mi sa che questo è un dolce per persone più esperte. Guarda, non è possibile farlo la prima volta. Ci vuole una certa maestria. Ecco qua. E questo è il nostro primo strato. Adesso passiamo al secondo. E procediamo allo stesso modo. Daniela, ha lavorato, ha lavorato, perché poi, insomma, è veramente molto faticoso questo tipo di dolce. E siamo giunti a questo momento. Dove vedete, al centro del girasole, che c'era prima, è sorta un'altra crepe di pan brioche. Esatto. Abbiamo steso altre cinque sfoglie, sempre con il fiore di cioccolato centrale. E adesso lo andiamo a ritagliare. Cioè, abbiamo riempito, quindi, lo spazio centrale. Ecco qui. Andiamo a ripetere l'operazione che abbiamo fatto prima. Quindi realizziamo dei petali, sempre non arrivando fino in fondo. Cerchiamo di tagliarli bene, mentre la nostra pasta sta già lievitando. Vedi, si sta gonfiando. Ecco. Ora li prendiamo e li rigiriamo. Un po' il procedimento che abbiamo fatto prima. Ecco qui. Benissimo. Ecco qua, ancora. E fino alla fine. Ora, vedi, si è creato uno spazio centrale. Naturalmente non lo possiamo lasciare in completo così. Ma prendiamo la nostra ultima pallina, la stendiamo, come abbiamo fatto prima, questa volta non troppo sottile, e la andiamo a riempire con la nostra crema alla nocciola. Ecco, prendo la crema. Il girasole, come vedete, è cresciuto e crescerà ulteriormente. Adesso la sua fisionomia è chiara a tutti. Deve essere solo mangiato. Vabbè, cuociamolo prima. Altrimenti crudo non sarà gradevole. Adesso la richiudiamo, questa pallina, per bene. Un saccottino. La schiacciamo leggermente. Aspetta che ho le mani sporche di cioccolato e la sto sporcando. Ecco qui. E la andiamo a posizionare proprio al centro. Questa adesso poi si gonfierà e raggiungerà un po' in altezza il resto dell'impasto. A questo punto pennelliamo con il tuorlo d'uovo. A che serve il tuorlo d'uovo? Facciamo capire ai nostri amici da casa. Serve sicuramente a colorire la nostra pasta, ma soprattutto a conferirgli anche un po' di croccantezza. Ecco, un tuorlo d'uovo battuto. Ora, con il pennello, andiamo a pennellarlo. Solo tuorlo? Sì, solo tuorlo, perché l'albume non sarebbe gradevole. Battuto come una frittata? Esatto, esattamente. Con una forchetta, semplicemente battuto, e poi pennellato sulla nostra pasta. Questo gli darà quel colore piacevole, dorato. Le tue uova sono particolarmente arancioni. Mi sa che sono uova di gallina originale, doc. Sì, molto spesso uso le uova fresche, devo dire, insomma, locali, perché sicuramente, insomma, quando sono di fiducia, sappiamo almeno che cosa andiamo a mangiare. Ecco qui. Adesso la granella. Una granella bianca per fare contrasto con la cioccolata. Ecco qui, vedi? Adesso andiamo a metterci un po' della nostra granella. Diciamo che l'uovo ci serve anche come collante per i nostri zuccherini, altrimenti andrebbero... Ecco qua. Se ti vedesse banderas del mulino bianco, creperebbe d'invidia. Guarda, devo dire, ho pensato un po' al mulino bianco, perché appunto quando ho detto sarebbe bello fare una prima colazione tutti seduti a tavola, piacevolmente, visto che è la festa della mamma, almeno per un giorno, e ho pensato appunto al mulino bianco, che riesce a farlo tutti i giorni. Noi penso che tranne la domenica e i festivi difficilmente ci riusciamo. Allora, adesso questo qui andrà in forno, a 200 gradi, per 30-35 minuti circa. Il bambino è uscito dal forno, vedete, ha un profumo che non vi dico, questa donna dovrebbe andare all'inferno, è una diavola tentatrice, perché davvero questa è una cosa di un goloso incredibile. Sì, questo è buonissimo. Diciamo che questo, il colore che vedete non è bruciato, ma è cioccolato che è fuoriuscito, perché abbiamo abbondato con la crema alla nocciola, ed effettivamente è molto buono adesso da mangiare. Questa sarà veramente una colazione piacevole per tutte le mamme. La tentatrice continua con la sua operazione di seduzione dolcissima, realizzando altre cose. Vediamo cosa c'ha in programma. Adesso sperimentiamo una ricetta molto carina, faremo delle rose, sempre con la pasta brioche. Allora, io comincio, perché altrimenti poi non ci riusciamo. Allora, la prima che andremo a realizzare, noi ne faremo proprio giusto un paio per farle vedere alle nostre amiche, poi dopo con queste si può realizzare naturalmente delle composizioni. La prima che andremo a realizzare è con crema pasticcera e mele. Le mele, io le ho tutte tagliate sottilmente, vedete, sono già qui lavorate. Le ho messe a bagno in acqua e succo di limone. Le ho passate al microonde per un minuto e mezzo, in modo tale che si ammorbidissero un po'. Il succo di limone, oltre all'aroma, fa sì che non si anneriscano troppo. E adesso le andremo a lavorare. Allora, mentre prima abbiamo tirato delle sfoglie rotonde, ora andremo a fare dei rettangoli. Vedi, facciamo anche un po' di geometria mentre lavoriamo. Ecco qui. Un po' più doppia la pasta? Sì, in questo caso sì, perché dobbiamo farcirla con la crema e la crema tende ad ammorbidire un po' la nostra pasta brioche. Vedi, sempre molto soffice. A questo punto, la stendiamo così, la dobbiamo tagliare perché deve essere bella regolare. Aspetta, tolgo il mattarello così le nostre amiche riescono a vedere meglio. La stendiamo leggermente e andiamo a formare delle strisce lunghe. Ok. Togliamo questa. Ok. Perché questa qui non mi piace perché non è precisa. Lei è precisa come una giapponese. no, la precisione è importante in cucina, poi soprattutto... Una diavola giapponese. Allora, giriamole così, così le nostre amiche riescono a vederle. A questo punto, cosa si fa? Ci vuole il cucchiaio. Prendiamo la nostra crema. Prendiamo un po' della nostra crema e la andiamo a posizionare sulla nostra striscia. Ok. Mettiamo poca oppure abbondiamo? Sì, media, vedi, dobbiamo comunque ricoprirla perché poi all'interno la dobbiamo trovare. Ci serve anche come collante per le nostre mele. Questa ottima crema pasticcera che vedo è anche molto consistente a qualche segreto oppure una classica? No, è una crema classica. L'abbiamo fatta anche la volta scorsa per quanto concerne le torte, ti ricordi, quella nasprata, diciamo. L'importante è che la crema deve essere bella lucida. Questo già fa capire che è una buona crema. Allora, prendiamo le nostre mele molto sottili e le cominciamo a posizionare, vedi, qui, tutte con la buccia verso l'alto. Io le ho scelte un po' rosate, rosse, in modo tale da dare anche un effetto un po' colorato. Ecco. Questa varietà qua. Esatto. La Fuji, questa è. però si può usare la Golden, la Marlin, quella che piace, diciamo. Però a me piace un po' più croccante, per questo ho scelto la Fuji. A questo punto ripieghiamo, forse è meglio che tolgo un po' così riuscite a vedere, ripieghiamo, ecco, e cominciamo ad arrotolare su se stessa. con molta delicatezza realizziamo, vedi, la nostra rosa. Sembra facile perché l'ha fatta lei, però voi... Un pirottino. Ecco qui. Passiamo a farne un'altra. Le mele, eccole qua, non le trovavo più. Dovete vedere lei come abile a dire ed ecco, esce la rosa. E se la facessi io, insomma? Te l'ho detto che alla fine ti farò fare anche a te qualcosa di buono, vedrai. però è un dolce davvero decorativo, guardatelo. Adesso non è ancora cotto, però dopo lo vedremo cotto. Può essere anche fatto come segnaposto perché è veramente carino. Sì, molto, devo dire sì, alla fine viene molto molto carino. Ecco qua, ne abbiamo realizzata un'altra. La apriamo un po' e la mettiamo anche lei nel suo pirottino. L'ultima. cerchiamo di prendere quelle con la buccia un pochino più rossa. Purtroppo la mela risente molto dell'aria, del clima e quindi quando fa caldo vedi, tende subito ad annerirsi anche se è passata nel limone. Ecco qui, giriamo. E intanto ricordiamo che la mela come la pelle della donna, infatti non a caso viene usata come diciamo per fare una metafora della pelle della donna, odia i radicali liberi. Ecco perché va messa nel limone, ecco perché va trattata in maniera così dolce. Esatto, esatto. Ecco qui l'acidità del limone le permetterà. Io ho aggiunto anche un pochino di zucchero di canna perché questo gli permette oltre a dargli un po' più di dolcezza a creare quella crosticina che è molto carina. quindi ci mettiamo un po' di zucchero di canna in superficie poi il zucchero di canna con la mela è eccezionale e a questo punto dovranno andare semplicemente in forno. L'ultima rosa che realizzerà Daniela è alla marmellata quindi una versione un po' più light se così vogliamo delle rose precedenti. Esatto, adesso con la confettura di fragole naturalmente voi potete usare qualsiasi tipo di confettura o anche con la crema o con la crema alla nocciola. Allora facciamo quel rettangolo come prima realizziamo delle strisce lunghe ecco qui e adesso su queste strisce andiamo a mettere la nostra marmellata. Queste sono veramente molto semplici da realizzare. Molto semplici molto easy si possono fare con la marmellata senza aggiunta di zuccheri per coloro i quali stanno un po' a dieta e insomma non vogliono addizionare zuccheri alla loro tavola e si possono fare in tutti i modi si possono fare con la marmellata d'arancia che più ne metta. Esatto noi in questo caso stiamo usando la confettura di fragole però volendo si può anche arrotolare semplice senza nessun tipo di confettura all'interno quindi senza farcia mettendo poi magari un po' di zucchero come abbiamo fatto per le altre rose un po' di zucchero di canno dello zucchero semolato quello che vi piace e arrotolarle semplicemente così e infornarle sono buonissime ugualmente allora adesso facciamo proprio un rotolino vedi ecco qui che apriremo leggermente e posizioniamo sempre nel nostro pirottino poi naturalmente possiamo dargli tante forme tipo di queste qui io dopo darò una forma come una torta tutta di rose perché sicuramente ha un'idea più carina ecco qui l'ultima e abbiamo finito a questo punto questo bouquet di rose deve andare in forno naturalmente sempre forno a 200 gradi per un 30-35 minuti invidio questa mamma alla quale è stato preparato questo déjeuner magnifico detto così è ancora più bello allora una prima colazione reale effettivamente insomma questo sarebbe il modo migliore per svegliarsi la mattina un bel caffè pronto lì che ci aspetta quindi noi abbiamo questa meraviglia di fiore con crema alla nocciola vedi le rose quelle lì con la marmellata ho realizzato questa torta di rose che è molto carina diciamo si presta come composizione mentre quelle con crema in mela ho creato questa ciambellina che un po' a ghirlanda ti dà l'idea e quindi adesso non dobbiamo fare altro che fare una buona colazione augurare una buona festa della mamma a tutti auguri a tutte le mamme io voglio ricordare il mezzo attraverso il quale Daniela comunica con il mondo il suo social esatto la mia pagina facebook le delizie di Daniela dove troverete tutte le foto tutte le ricette e tanto altro